Petruzzelli, Royal, Chauville, Kismet e Forma. Sono le cinque case del teatro di prosa a Bari per la stagione 2011-2012. In mancanza del piccini chiuso per restauro saranno questi i contenitori scelti per ospitare un cartellone di altissimo livello che si aprirà con la prima di Idiotas dal romanzo di Dostoevsky. Cinque ore di spettacolo in lituano con sottotitoli in italiano del regista Eimuntas Necrosius, mercoledì 16 e giovedì 17 al Petruzzelli. C'è grande attesa tra gli abbonati invitati nel Royal rinnovato con salotto e libreria offerti dai due sponsor privati per una presentazione dettagliata del cartellone. Un assaggio dei 16 spettacoli in programma per alcuni dei quali sono già arrivate prenotazioni da fuori regione. Questa iniziativa è molto importante per far conoscere sicuramente un altro contenitore della città che ospiterà il grande teatro e quindi la stagione del comune di Bari, uno dei contenitori che abbiamo scelto per questa importante stagione teatrale. Quindi l'anno prossimo vedremo, speriamo di prenderci sicuramente il piccini ma sicuramente questo è uno dei contenitori che bisogna comunque tenere presente.